Il giorno quando è morto Sabri, ti giuro non riesco neanche a alzarmi in piedi. Figurati da guardare anche due altri figli che sono distrutti. Abbiamo deciso di parlare ora perché prima abbiamo rispettato l'indagine, abbiamo rispettato il giudice, abbiamo rispettato tante cose fino a che finisci. Ora l'indagine è finita e possiamo parlare. Possiamo parlare perché, guarda, vogliamo sapere, vogliamo dare anche un'idea che non deve succedere una roba in genere. Perché è molto brutta, è molto brutta e molto dolorosa. Quando perde una persona in questa maniera è molto brutta.